In questa giornata meravigliosa dedicata a questa figura di frate Elia, due parole per ricordare questo convento meraviglioso, questa chiesa di San Francesco e la figura di frate Elia. Come ormai tradizione organizziamo ogni anno nella ricorrenza della morte di frate Elia un evento che omaggia, ricorda questa figura geniale del ordine francescano, amico e confidente di San Francesco. Una figura importante quindi che quest'anno si concretizza nella realizzazione e la presentazione di un DVD che ricorda le maggiori sue iniziative, se vogliamo dire, di incarnare lo spirito francescano anche nelle sue opere che sono le chiese di Assisi e la chiesa di San Francesco qui a Cortona. Siamo con Raffaello Lucci che ci ha omaggiato in questa giornata dedicata alla figura di frate Elia con la sua splendida mostra di calcografie. Sono sei calcografie che riguardano gli scritti di San Francesco e l'acito spirituale che il santo morente ha lasciato a frate Elia. Siamo davanti a una delle più belle di queste di queste opere di Raffaello Lucci che è il cantico delle creature di San Francesco. Descrivisci perché l'hai fatta e quando l'hai fatta. L'ho realizzata un anno fa, è una restituzione che mi sentivo di fare al santo più amato dagli italiani, diciamo. Il cantico delle creature che ho sviluppato sotto forma dell'ordito della trama del saio, quindi la parte terrena che diventa la parte spirituale, quella bianca, pura, con le stimmate. Grazie. Grazie.